buongiorno buongiorno coccodrilli guardate da chi sono la ziggiana eccola ogni domenica c'è anche il coccodrillino anche l'uzi roberto eh ziggia anzi è bella e guarda come ride oggi eh come ride la ziggiana e il cappello che ha fatto è stata parrucchiere ziggia anzi è bella io lo do da parte di tutti voi di tutti quelli che come me hanno vissuto la ziggiana ho voluto condividere questi momenti con voi anche perché se potete ricordatevi sempre di passare a trovare i vostri cari perché ci proteggono da lassù detto questo oggi avremo una super giornata in famiglia perché ho tutta la mia famiglia a mangiare fuori perché basta farli cucinare perché sennò stanno sempre dentro casa quindi oggi super scampagnata ma ma dove andata dove oh ma le hai messa la camicia no perché ma perché io sono legato con quella camicia mettere i volta libero mette la camicina beh si mette la figa no io no levati te l'allaccio io fammi te l'allacciare a me aia aia guarda come ride eh eh come ride guarda quanto è contento oggi che il porta a magna fuori guarda che faccia da contento eh si 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 ma compito fondamentale vai ah madonna mia trepa tutto il calcetto wow ma che fai ah 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 come per dire la mattina è contenta la nonna che non è cucinata non è fatto niente guarda quanto sei bella eh sei pronto? ma donno che nipote bravo perciò me lo invidiano tutti oh ah 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 mica so come lui io sempre sempre un burto io qua non ci sto invece ma sempre triste e poi dopo mi chiama sempre però eh sì poi senti un po' quel tiro eh già lui subito è andato a fondo che fa il pennello così guarda che bel pennello guarda che pennello col ficiucce vattene vattene col ficiucce ma il pennello no no attenzione bisogna sempre prenderlo perché qui c'è tutta la cristoteca che lo osserva cioè mica poi è domenica oggi è una giornata bella che ci vogliamo divertire vogliamo star bene e mangiare bene vero? certo certo da te che te tu stai zitta che non capisci niente non capisci va dissing le prima mattina è uno mi portano i figati che la fa? questa che la fa? che la fa? che la fa? questi capelli mannaggia che la fa? qua è un attimo per incendiare tutta la curva incredibile che spettacolo bravo romano bravo andrea grandi che emozione oh ultimo giro da paura ragazzi guarda un po' oh dov'è questo vespino? dove? dov'è? buon giro dov'è? buon figa oh grande vai vai qua siamo in partenza eh o no? fa la faccia la partenza oh o no? fa la fa la faccia la testa del cazzo cammina nooo fa la faccia la partenza come si fa? oh oh poracce oh bello eh o no? eh guarda di lì di lì proprio da guardare eh si ma leva sta mano guarda ah coccodrillo nonna marì ti piace? eh sei contenta? eh sei contenta? eh quanto? tanto inizia subito con un fiore di zucca fritto rifritto con doppio rifrittato ma oggi che dieta si prevede? si prevede la dieta che mi fa i cazze mie e dopo? e dopo mi fa i cazze mie e poi? e gli altri sono da fare i cazze loro e poi di dopo? che succede? che succede? subito o dopo? eh subito o poi? con prosciutto riprosciuttato pecorino ripecorinato e la bruschetta ma quanto stai a mangiare? oh oh no quanto mangiare? oh fammi toccare il cincillare fammi toccare il cincillare il cazzo può mangiare di là con chi? eh da me ma il cincillare? eh tu non hai potuto rompere i cagli perché guarda lei ci sei mai portato no no il signore ci ha ripensato non le mangi le portiamo via le portiamo via no no le portiamo via eh questi ti piacciono eh? ha fatto una buca classici 50 grammi di pasta e beh quant'è? ma come quant'è? il piatto è grosso ma che stai a dire? guarda come ride sotto i baffi guarda guarda come se la ride e se la gode oggi e il piatto che è grosso no com'è? adesso allento il piatto è vergogna pare che è un cattivo invece no che le mangi ma tu vede dopo te vanno tutte di lì 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 e dove andai? dove andai? attenzione sta concentrato incredibile grazie io così quando le mangio quando? no io non te le voglio più no 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 le mangio qui ah c'è il vino c'è il vino e beh non fa niente no io quanto non le voglio nonna marì che fa? eh? nonna tra di là è tutto il diritto però avrei fatto un pastiglio e poi un giro ahahahah l'ha lanciata eh? eh? queste erano due ne ho lasciate mangiate la bruschetta mangiate basta comunque gli è caduto tutto il vino addosso è stata lei stavolta stavolta è stata lei ma è una scena pazzesca che vorresti piatto che vorresti piatto anche il secondo ti stai mangiando ma ti vergogni un pochino davanti a tutti non la voglio da mangiare solo tanto discorso fai discorso eh sì che poi mangiali che vedi? me ingrandiscono troppo che cosa? non vedo normale ma che vedi? e le persone che vedi? e poi? vedo le montagne e la casa vedo tutto ma e poi che vedi? e poi mi sono staccato e poi mi sono staccato fai il conto ti è va bene va bene va bene va bene dice chi ha pagato eh ci credo tu dici 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 che è lui Luca volevi la crema per le mani sono ignorante perché c'è la gente mi fa sentire e questo sta rompendo i co*****e da quando sono arrivato ma ti hai igienizzato? ma cammina stasera? hai capito? hai capito? hanno trincato i principini ma al braccio che te trema? che te trema? i coglioni! manco il caffè mi fa bu- guarda come ride però fai gustare il caffè ma la tazzina te l'ha andata col giacchetto? la tazzina te l'ha andata col giacchetto? quando tu avrai 93 anni stai così se sei capace tre trema un po' trezzica un po' che trezzica? siamo arrivati nonna maria? a san francesco eh no tu scende? io no perché? perchè? perchè l'aria alla pio ora quanto è bene e che vuoi fare? che vuoi fare? che vuoi fare? francesco? si che vuoi fare? ma a posta che vuoi fare? vai dentro dai frati dai frati? va c'è? va c'è tu dai frate lei ha dei coglioni tu e lì? no non amare i capelli come sono tagliati? mannaggia cristo! nooo! nooo! e no perché? lì c'ho mettendo c'ho mettendo il calco con sto stroggio ah! ah che dubbio per sparare la grifo! che vita che stai fa o stai! che forza grifo! 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 troppi! quanti? troppi! che hai vinto? che hai vinto? che hai vinto? ho detto lo scudetto! Seeeeee! bravo! che offri da bene! bravo! per luce a serie B poi eh! eh! non lo ringrazio niente via! campanica che ha vinto l'inter! oh! san francesco è ancora! eh? belle! san francesco è interista! mi è arrivata la tua team! san francesco è interista! l'inter incredibile fa mela tutta mamela la capriola andrea altre figlie non ha vinto la roma infatti anche giù un'altra un'altra poi vai vai la tartaruga